musica è ora la céssisa ma io sono alex e siamo ritornati abbiamo deciso di ahhh no il farcu Maker l'avevo appenaiansfall REPLIN société da ora perché sono antissima zzzzzz mi hai fregato tutta la roba con cosa ti uccido con cosa ti uccido mi hai fregato tutto la cosa che dobbiamo fare è costruire una casa si perchè ci sbattola adesso si si la casa che è un cubo l'hai fatto tu eh ma è una cosa provvisoria te l'ho detto anche cioè io se faccio una casa la faccio bene eh ho capito che dobbiamo farla bene da subito eh non si può far bene da subito io sono un miserio io ho fatto bene da subito ma no prima si fa che ti scapparevano tutti i gangli lo c'è coca che diio eh ma no non me ne fette 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 non cazzo che ti stai chiamando allora c'è uno scusa no 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 venga ti prego ti prego non mi abitiscono vieni qua cari di vero vieni qua no dai sedute sedute non preoccuparti sono una minaccia quei cani sono una minaccia quei cani saremmo messo la farnaccia quando sono no no mi muovono no non mi passa in mezzo non è giusto non è giusto ritirata 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 non mi ha letto dovrai dire neanche lo sport aspetta te lo puto 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 no 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 si ho un'idea no no tu non hai idea dobbiamo fare una stanza mi sembra che i merda mi attaccano una stanza delle ceste delle ceste dobbiamo fare tutte le ceste no mi si rottola faccelo tu faccelo tu e poi lei iniziamo questo qua ci facciamo una stanza quadrata simila quella di prima ma più grande perché l'abbiamo rotta allora che siamo tutti pronti no 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 ti prego no sai perché no non dico più sai perché perché è legno perché è legno perché è legno perché è legno era diverso per quello che l'abbia rotta è una brutta pagione e quindi per farlo più grande mi direi di farla eh si ma come come lo faccio eh non ti faccio faccio il mio hotel ma fallo tu un quadrato ma che lo stai facendo chi sei ci avevo messo tre cose tutte e tre sbagliati bravo io non c'è neanche una ma qua qua ti un po' lo chiudo dove qua così no 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 è quello il suo bello ah vabbè contento di pavimento io però non in legno mucca via delle balle il pavimento non in legno si no lo facciamo in slab in slab in slab in slab in slab allora questa roba dovremo anzi no la comprendiamo in un'altra stanza la allora la miniera la compreniamo in un'altra stanza che sarà la stanza della miniera quindi qua quindi qua tipo qua bisogna fare il muro della stanza ma dove devo fare le cose anzi quel legno che hai rotto usiamo per fare le slab e pavimento così viene di fare Tanmi támi un attimo il cane fare io, cosi è più culo è più culo? è più culo scusa... NO! NOOOON Price No понял route ちょう ポ controle you'd sign that alone il cane si è già messo colmi sarò un po' sotto il cane e basta ehi potremmo fare anche la cuccia per i cani così non riesco... nooo si certo! e non ti rompere le mani proprio io vado a fare la cuccia per i gentili animali ah vittarmi un cast... no no bastard no no non spaccare il letto decisamente paranormal activity perchè succede la testa che si muove? anche tu non è vero ma perchè io muoio sempre in continuazione? tu muoio sempre in continuazione io muoio sempre in continuazione su uno macchini e controllo con i tuoi cani ehi in centro cavalli ma dove hai la casa? non riesco più a entrare come non riesco più a entrare? non ho entrato ma dove? è sopra? come si fa? come come si fa? guarda è di qua? bisogna mettere la terra aaaah vedi dimmi prima ah non era chiamata? era messaggi intermittenti si sono messaggi intermittenti si cos'è? eh allora devi metterli sulla cioè devi mettere un altro cos'è? ma si può passare in mezzo ai tappiti cani attaccati a lui? non ho capito io eh nooo si è entrato tutto si è entrato tutto è tuo? si intrappolarlo dentro quello si ma tra l'altro tu non potrai mai avere i cani quindi in questo mio mondo perchè tanto dopo esce e quindi non puoi farli no non saranno più tuoi mi dispiace ti perdi l'esperienza fantastica guarda i miei cani io adesso ho messo tutto in questa classe tu qua nooo per perchè? perchè ho intratato il cane ma non ci sono aspettato questa dove hai messo il mio letto? perchè sei spavolato lì? mi hai tolto il letto no non è vero non ti ho fatto lì ma perchè mi è uccisi? perchè mi è andata ma non ha sentito tu non sei da come va ma cosa devo fare adesso? facciamo l'ascensore ah no 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 eh sì ma ci serve il ferro eh il ferro eh il ferro facciamo un legno facciamo la struttura dell'ascensore perchè è proprio allora ci sono po' di cesty in mezzo il panco eh lo fa per colcheggiato ah togliermi mi ha toglione allora facciamo così io tolto tutte le ceste di tutto posto si ti do queste cose c'è il blocco che vuole le vuoi queste? le vuoi? come si chiamano? grazie bene io sposto le ceste no ma il legno che vuole è fantastico è così alto? eh però ci fermiamo dei torci va bene? scusi eh si se vuoi farmi pianti signor ingegnere bambini no dai falla così davvero davvero forse un po' troppo altro eh ho preso tutto ho diventato il pieno di riprendere la tua cosa no! non posso passare se mi è troppo lato vorrei fare l'endevere è andata come in giro la tua roba hai messo un esploso in più direzioni ok le spostati devo mettere una cassa lì dammi almeno il legno voglio il legno non si sposta il legno fai così no 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 l'hai attaccato tu non l'ho fatta niente io l'hai attaccato tu venga di puttana perchè i cani ce l'hanno con me no guardalo guardalo calmalo non posso eeeh siccome al grisus si è fatto scappare tutti i cani non è vero fico di volta cara chiudì chiudì la paura allora io fanno tutto su qui vedi qua c'è una sulletto fa le ceste dobbiamo ancora mettere la posto faccio vedere la vera sciccheria la vera sciccheria è che lui ha fatto l'ascensore mentre gli fanno tutto il resto eeeh 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 naturalmente ho fatto crescere degli alberi perchè ne avevo voglia tutto lui ha fatto e io non sono rimasto qua a fare niente eeeh 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 madonna notare la no vorrei far notare la ceste che ho scritto sopra oggetti preziosi eeeh suggeritela a me eeeh ma sei calo di qua o no io no non dovrei si c'è armatura over 9000 no veramente non hai niente di armatura chi è che ne ha picchiato io dai non ho fatto il tessuto no mi hai ahhh ci pensa al cane non preoccuparti ci pensa a lui che picchia te quindi se vi è piaciuto lasci un commento mettere mi piace anche sprucciato per il mantello figo eeeh guardate vision con age of ultron no ma io sono più figo però mmm mmm guarda oh eeeh va bene bene quindi bella ragazza no 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 oh no 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 via 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 io torno a casa mi spiace bello ma ok esatto mi sono maria io esco ma no no questa frase rimarrà nella storia questa frase giuro rimarrà nella storia